Trova bellezza nel guardare le cose a modo tuo. È la frase che Miriam Stefanoni, vicepresidente dell'Aism, ha ideato e fatto stampare su magliette in vendita da oggi nel negozio di Walter Bulla, a beneficio dell'associazione Sclerosi Multipla. Ho voluto che le persone leggessero questo piccolo componimento poetico e trovassero bellezza così nel quotidiano, perché credo che abbiamo molto bisogno in questo periodo di trovare bellezza, malgrado le avversità. Le magliette saranno esposte in occasione della presentazione del libro di Miriam, Abita in un mio bacio, che avverrà il prossimo 2 dicembre alle 17 alla Galleria Passerini-Landi. Verranno lanciate questa presentazione del libro che verrà fatta il 2 dicembre al Salone Monumentale della Biblioteca Passerini-Landi e poi fino ad esaurimento, quindi già da ora fino ad esaurimento delle maglie, vengono vendute nei negozi di Bulla. L'intero ricavato della vendita delle magliette andai interamente all'associazione Sclerosi Multipla, come spiega Walter Bulla. Quando Miriam mi ha parlato di questo progetto e di questa bella frase che abbiamo riportato sulle magliette, mi sembrava giusto collaborare, come faccio da sempre, con l'associazione Sclerosi Multipla e quindi il ricavato delle magliette sarà totalmente devoluto alla Sclerosi Multipla.